Dall'8 dicembre al 7 gennaio rivivono le oltre 200 scale di Napoli, con un fitto programma di eventi organizzati per rilanciare percorsi turistici alternativi e sostenibili. L'iniziativa Tu scendi dalle scale animerà fino all'epifania, scale, rampe e gradinate che collegano la zona collinare al centro storico. Tutto è da vivere rigorosamente a piedi, sono previste mostre, dibattiti, visite guidate, passeggiate letterarie e spettacoli in quei luoghi che raccontano la storia, la cultura e il paesaggio della città. Quelli più famosi e importanti sono le visite guidate, proprio per far scoprire la bellezza ma anche la storia e la veracità di Napoli. Sembra ritornare indietro nel tempo percorrendo queste bellissime scale, ma poi ci sono mostri, ci sono concerti, ci sono dibattiti, ci sono momenti di riflessione e discussione per rilanciare una delle più belle attrazioni della città. Promossa dal coordinamento Scali di Napoli, che dal 2011 è impegnato nella valorizzazione di questo patrimonio, l'iniziativa è realizzata in collaborazione con l'assessorato all'ambiente da SIA. Stiamo molto investendo sulla voglia di partecipazione dei cittadini napoletani, anche qui questa iniziativa è frutto del lavoro delle associazioni, del volontariato, di iniziative imprenditoriali che si muovono sul territorio e che insieme con l'amministrazione si riesce a fare veramente una sintesi straordinaria per far conoscere la città e dare un contributo per migliorare la qualità dei servizi e per passare anche diversamente alcune giornate del tempo libero nella nostra città.